buonasera buonasera a tutti buonasera a tutti e benvenuti a questa nostra serata questa nostra serata dedicata ai dieci anni di sport emotion e ho fatto un video dove appunto si vedranno i nostri dieci anni con foto che andranno man mano scorrendo e vedremo appunto noi dieci anni fa vedremo anche persone che magari sono uscite dal gruppo e purtroppo vedremo anche persone che non ci sono più non ci sono più in questa occasione volevo appunto salutare il nostro grande amico dimitri e sembra consentire forse fare scattare anche un bell'applauso e a parte le cose tristi che purtroppo succedono voleva appunto augurarvi e tutto non è buona tutti una buona serata cercheremo di divertirci come sappiamo fare appunto e vi auguro a tutti veramente una buona serata e a proposito volevo augurare anche da parte mia auguri sport emotion ben alzati grazie ma ci siamo tutti possiamo dirlo ma anche qualcuno ma anche qualcuno arriverà arriverà sicuramente arriverà che già tardi dai che si parla grazie a tutti Per i dieci anni di Sport Emotion Un saluto dai tritoriani Vi vogliamo bene e non molleremo mai Vi aspettiamo per le prossime uscite in bike Ti amiamo noi Sport Emotion! Sport Emotion! Sport Emotion! Come se non ci fosse un domani Ricordatevi una cosa La fatica passa E non ce ne resta Ciao La messa a mani Ciao, sono Anna Maria E sto solo da due anni in questa società bellissima In cui c'è tanta tanta bella gente E buon compleanno a Sport Emotion e a tutti noi Cresistente è il tempo Cresistente è il tempo Cresistente è il tempo Cresistente è il momento Ciao ragazzi, non ci sarò stasera, però vi faccio comunque tanti tanti auguri per il decimo compleanno di Sport Emotion, anche se non sono presente perché in altre faccende faccio in realtà, tanti auguri. Bisogna dire tanti auguri Sport Emotion, tanti auguri Sport Emotion, anche perché se non mandavamo sto filmato uno mancavano, voglio dire, e poi Salario come ci gazzava, ragazzi a parte gli scherzi veramente, buon compleanno, buon anniversario Sport Emotion, chi siamo noi? Sport Emotion! So don't stop me falling, it's destiny calling, a power I just can't deny, it's never changing, can't you hear me, I'm saying, I want you for the rest of my life, together forever and never to pass, together forever we do, and don't you know I would move heaven and earth to be together forever... Ciao Sport Emotion! Buon compleanno! Buon compleanno! Grazie, grazie per tutti i momenti felici e piacevoli che ci regali. A te, tutti i tuoi amici, soci e associati, un ringraziamento e i complimenti ovviamente al Presidente e ai Vice Presidenti per questa bellissima realtà che è stata creata e che oggi ci sono anche 10 anni. Perché la fatica passa e l'emozione resta Sport Emotion I miei auguri che arrivano dal transporte Dieci anni insieme Dieci anni di cose fantastiche Ne abbiamo fatti di tutti i colori Abbiamo fatto Santiago Budapest L'Austria in numerevole volte La Via degli Imperatori 24 ore di Roma In numerevole volte 12 edizioni di cicloturistica La partecipazione è un numero infinito Gare è un numero infinito Ne abbiamo ancora tante Vi ricordate che è una cosa importantissima La fatica passa e l'emozione resta Tanti auguri ancora per questi dieci anni Questa è una cosa importantissima Tanti auguri di Sport Emotion, tanti auguri per i nostri dieci anni, alla grande proprio, alla grande siamo andati, grazie a Luigi che mi ha fatto conoscere l'attività sportiva, che mi ha aperto le porte alla bicicletta, alla corsa, insomma. Ma soprattutto ho trovato le persone, tante belle persone, coinvolgenti, simpatiche, degli amici. E quindi un grazie a tutti quanti e ancora auguri per questi dieci anni. Auguri e viva Sport Emotion! Tantissimi auguri a Sport Emotion per i nostri dieci anni. Ciao ragazzi, un saluto qui dal Teide a tutto il popolo di Sport Emotion. Vi auguro di pedalare in tutto il mondo, di camminare in tutto il mondo, sempre con gioia e con tanta voglia. Un abbraccio e tanti auguri. Dai! Ciao ragazzi, un saluto qui dal Teide a tutti. Dai Sport Emotion! E sono dieci anni che mi sopportate! Auguri a tutti! Auguri, 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 auguri! Per i primi dieci anni! Auguri! Tanti auguri al popolo Sport Emotion per questi primi e spero non ultimi dieci anni di emozioni condivise. Un augurio particolare al nostro presidente Luigi, senza il quale forse non sarebbe stata così Emotion. Auguri, auguri a tutti! Buonasera a tutti! Felice di partecipare a questa bella festa dove festeggeremo i dieci anni di Sport Emotion, che coincidono più o meno con il mio inizio di uscite di un contatto. Mi auguro il 12. Il primo è spero di vedere così tanta gente di partecipare al prossimo evento di Sport Emotion, quello del 2033. E il secondo è visto la mia non più giovane età, proprio il 15 maggio è fatto 67 anni, e vedo di continuare anche nel 2033 ad andare insieme a tutti. Concludo con un ringraziamento a Fabrizio, a Peppe, ma soprattutto a Luigi, vero cuore bizzante di questa bella associazione sportiva. Un saluto, ciao!